Sono arrivata sul Lago Maggiore per caso, ma mi è subito piaciuto. È un amore che dura da 60 anni. Così Liliana Segre ha raccontato il suo rapporto con l'ESA ed in particolare con Solcio, la frazione dove trascorre determinati periodi di vacanze quando non è a Milano o a Pesaro, nel corso della cerimonia del conferimento della cittadinanza onoraria avvenuto sabato 7 ottobre all'ESA. Ha raccontato, inoltre, di come... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.